Ma io onestamente sto prendendo abbastanza seriamente la questione, come sapete non solo ho chiesto al Consiglio Superiore di Sanità un parere articolato su come approcciare la questione, ma ho chiesto anche di accelerare perché vorrei proprio entro fine maggio riuscire a predisporre tutti gli atti necessari. Quindi la decisione o meno di ritirare dal commercio queste protesi verrà presa in base al parere che ci fornirà il Consiglio Superiore di Sanità e se è il caso chiederemo anche un parere al Consiglio di Stato se c'è da un punto di vista giuridico anche questa necessità. Per quanto mi riguarda comunque il tema è molto serio e quindi noi poi senza fare allarmismi perché naturalmente si parla di casi rarissimi però è assolutamente corretto alzare l'attenzione e informare adeguatamente sia chi ha avuto impiantata questa protesi sia chi soprattutto nel futuro intende farlo perché per quanto basso il rischio come per i farmaci comunque esiste. Quindi è giusto che soprattutto trattandosi quando si tratta di un intervento voluttuario si sappia bene che può esserci per quanto bassissimo anche questo rischio.